Sono esposte da oggi al Museo Nazionale di Villa Guinigi le due opere inedite di Matteo Civitali, capolavori restituiti alla città grazie alla scoperta di Valentino Anselmi, funzionario storico dell'arte alla sovrintendenza per le province di Lucca e Massacarrara, un progetto congiunto che ha visto la partecipazione della Fondazione Banca del Monte di Lucca che si è fatta carico del restauro e dell'allestimento della sovrintendenza e della direzione regionale dei musei della Toscana. Questa mostra è stata molto attesa da parte nostra perché avrebbe dovuto verificarsi l'anno scorso, poi c'è stata la pandemia nel mezzo e quindi è slittata diverse volte, oggi si apre. Ecco, questa mostra rappresenta il rinascimento nell'arte lucchese, il rinascimento lucchese. Io spero che rappresenti anche il rinascimento del nostro momento brutto che stiamo passando. Il Salvator Coronatus è una scultura in terracotta proveniente dalla chiesa di Santa Maria Corteollandini, rimasta per secoli senza attribuzione. L'intuizione dello storico dell'arte Anselmi e le prove scientifiche condotte dal RIS di Roma hanno fatto emergere la vera identità dell'autore, Matteo Civitali. Potete quindi, diciamo, immaginarvi l'emozione di aver rintracciato quest'opera. Io immediatamente incominciai a fare anche ricerche archivistiche che dettero i suoi frutti perché presso l'archivio storico diocesano e di Staco di Lucca ho potuto appurare che all'interno della chiesa di Santa Maria Corteollandini vi erano addirittura due busti attribuiti a Matteo Civitale, cioè il più importante artista rinascimentale lucchese. Un Cristo, coronato di spine, e una vergine, una cosiddetta mater dolorosa, che purtroppo non è stato possibile rintracciare. Però, diciamo, l'importante e la rilevanza dell'attività di tutela della soprintendenza nel territorio è stata proprio quella di rintracciare questo Salvatore Coronato, il Salvatore Coronato che vedete qui accanto a me, per il quale abbiamo subito, ci siamo subito attivati per restaurarlo. Ma un'altra opera viene accolta in questa mostra in programma fino a maggio 2022. Una Madonna con bambino proveniente da Colle di Compito. A distanza di qualche mese dal primo sopralluogo, infatti, Anselmi ha avuto modo di riscontrare che anche un inedito rilievo in terracotta policroma con una Madonna col bambino proveniente da un'edicola votiva della frazione di Capannori era stato fatto dalla stessa mano, quella di Matteo Civitali.